ciao ciao ma tu lo sai che susanna va in giro chiunque incontra scopano duro scopano duro cioè adesso tutti pensano che io e te stiamo insieme ma ti sembra normale tutti e quindi quindi e quindi questa cosa è arrivata pure all'orecchio di paris capito che cosa mi frega a me di paris per favore gli dici qualcosa tutto il giorno così capito tutto il giorno non ho capito sei preoccupato Susanna pure te vattene a fanculo però eh guarda che a me non sta bene mica che quella va in giro dire scopalo duro scopalo duro poi tutti quelli del centro sarà una cosa normale se permetti no o no e poi se lo viene a sapere mia figlia è normale ma tu stai qua e fai un casino della madonna io ti salvo il culo tu ti preoccupi che si indica in giro che siamo insieme eh come reagisci sei pazza io non sono pazza hai capito io non sono pazza sono solo stanca non sono pazza hai capito non sono va bene va bene va bene sei papazza senti è stata una giornata difficile solo che se uno ha avuto una giornata difficile uno non lo capisce no li va addosso gli dicono che è pazza e allora va a fanculo ho avuto una giornata difficile che cosa vuoi ho avuto una giornata difficile